Nel mondo ci sono tante cose paurose, tipo questa, ma anche questa, parte 2 nei commenti. Ma prima di iniziare ricordatevi di scrivermi nei commenti quanto fa 17 più 7, di lasciare like e iscrivervi al canale. Porca puzzarda, che caspita questa tizia? C'è un basement, dice la ragazza. No, e c'era qualcosa di strano nel seminterrato. Invece vediamo questo short qui, che cosa sta facendo? Vedete, c'è una ragazza, tipo una tizia molto strana. Porca puzzarda, questo è il mio microfono. Oh mio Dio, perché dovresti mai fare una cosa del genere? Scusate, tutto bene quello che ha fatto quella roba? Dice, fai clock clock sulla porta, insomma. Vabbè, sentite, a me non vengono in mente le parole italiane. Quindi fate, insomma, avete capito. Dice, fate più forte. Insomma, bussate più forte. Si è sentito un urlo. Porca puzzarda. Dice, quindi... Ok, questi sono tipo dei cacciatori di fantasmi. Pensi che puoi farlo ora? Dice la ragazza che sta cercando il fantasma cattivo. Porca puzzarda, guardate, la porta si è completamente fermata. E ovviamente, cioè, sì, volevo dire chiusa. Mamma mia, non so parlare. Lei se ne sta andando in un'altra stanza e... E dice, no, non ci posso credere. Assurda questa cosa. Si è chiusa la porta. Non succede questa cosa normalmente. Quindi si spaventa. Cosa sta facendo? È inutile che tocchi, signorina. Allora, dice... Ho accesso paranormale al piano. Mi sta venendo paura perché non sta succedendo niente. Quindi ho paura che arrivi un jumpscare. Non voglio urlare, perché poi dopo mi faccio male alle corde vocali. Cosa è che dicono che non si capisce niente? Dice, vai avanti e sblocca la porta. Sembra una guardia questa. Dice che ci sono attività paranormali qua in questo piano. Vai, dice. Eh, vai. Non... E poi ecco qua. Allora, questa parte che sembra un pochettino un ospedale, no? Oh, porca puzzarda. Eh, allora, tecnicamente arriva tipo un tizio cattivo e uno skinwalker. Sarebbe tipo una creatura mitologica paurosa, no? Che mima la sua voce. No, 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 no. È brutto lo skinwalker, non lo voglio più vedere. No, cos'è? Non ho visto, non ho visto. Non ho visto cos'era? Ma raga, ma non c'era niente. C'era solo un urlo. Di chi era l'urlo? Forse è tipo un senzatetto che è entrato in questo posto, può essere. O magari un'altra entità paranormale, ma ne dubito. Cioè, secondo me in questo caso è più spiegabile con il fatto che c'è un tizio pazzo che vuole uccidere questo signore. E lui dovrebbe scapparsene! Dice che me ne vado fuori da qui. No, mi sta facendo venire paura perché sto posto. Ma perché sei andato in quel posto poi? Ma sei normale? Cioè, io non ci vado perché ho paura. 3.07 di notte. Sappiamo che alle 3 di notte ci sono tutti i fenomeni paranormali. Almeno così si dice. Dice che qualcosa in questo armadio sento che mi stia guardando, no? Da questo armadio. Cioè, tecnicamente dovrebbe essere un armadio. A me non sembra che ci sia niente. Però magari... Oddio mio. Sì, in effetti, ora che ci penso, sembra ci sia qualcosa, ragazzi. Cioè, non so, non vi pare? No. A me non pare più. Secondo me sei solo tu, scemo. Non so, raga. A me non fa paura questa cosa. Cioè, è un po' strano. Ma non c'è niente. Infatti, boh, vabbè. Secondo me è quella classica paura che ti viene, no? Però non è niente. Ok, però qua è successa una cosa molto strana. Si è acceso il ventilatore. Vabbè, dai. Questo video è stato preparato, spero. Me lo auguro perché se no, raga, io me ne vado fuori da qui. Cioè... Allora, dice che l'infermiera va nell'ospedale, qui, al buio. E lei si è terrorizzata. Ehi, sono caduti gli oggetti da lì. Uè, che spavento. Porca vacca. Sì, si è visto la stessa cosa che è caduta. Ma gli infermieri si divertono a fare queste cose negli ospedali, scusate. Ed è caduta quell'oggetto lì. Wow. Si apre la porta, vabbè, certo. Allora, poi questa tizia dice, ma puoi, mamma, puoi passarmi, per favore, la bevanda che c'è sul tavolo? Però, dei fantasmi che arrivano da un altro mondo, non è che arrivano da te e aprono le porte. Non ha senso questa cosa, perché secondo me queste cose sono un pochino fake, no? Sì, vabbè. Ma raga, ma non c'era nessuna. E lei, sì, grazie. Gentilissima. Non si è accorta di niente, proprio. Invece qua si è catturata in video. Cioè, è stata vista in video. Questa tizia è molto brutta. Porca puzzarda. Ecco, cioè, se è vero, potrebbe essere un'assassina pazza psicopatica. Porca puzzarda, o magari un'entità paranormale. Chi lo sa? No, non fare questa faccia, eh. Non fare questa faccia. Avete presente quando guardate i video horror e vi viene ansia? Ecco, proprio questo sto provando io. Molta ansia. Cosa sta facendo? Non lo so, non capisco. Vi sembra normale questa cosa? Vabbè, ho capito, vai avanti. Non rompere le pa... Basta, vai avanti! Capisci, ho una tizia molto brutta, strana, ho capito. Basta. Oh. Ma basta. Niente, dovevo andare avanti per un'altra mezz'ora così. E questo chi è, questo tizio? Chi è? Sono io la mattina. Chi è? Cioè, vabbè. Cosa sto facendo? Tutto bene? Ma raga, ma che cacchio? No, fermi un attimo. Questa cosa mi ha veramente colpito. Cioè, questo tizio sembra essere tipo strangolato da qualcuno. E poi vola tutto. Com'è possibile? Assurda sta cosa. Mio Dio, sarebbe molto brutto. Allora, qua c'è una donna posseduta in ospedale, a quanto pare. Oddio! 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 Ma tutto bene! Ma... Ma raga, ma questo sono io ogni volta che vado fuori casa. Ma tutto bene così. E tipo, ovviamente c'è il tizio che fa No, basta, io raga qua me ne vado. Oddio! Vabbè, potrebbe anche essere impazzita, no? Oddio! No! Signora, non capisco una parola di ciò che dice. Ma cosa fa, raga? Ma cosa sta facendo? Chiamate un dottore, per favore. Chiamate un dottore, porca puzzarda! Questa qua è impazzita! Dategli i calmanti, basta! Con quest'ultima parte mi ha fatto un attimo inquietare. Scrivetemi se volete vedere altri di questi tipi di video. Seguitemi. Scriviti al nostro canale.